Airbus, numero uno dell'aeronautica in Europa, annuncia ad avere in portafoglio 115 ordini per un valore complessivo a prezzi di listino di poco meno di 17 miliardi di dollari. In una conferenza stampa durante l'Air Show di Fembro, l'amministratore delegato del gruppo ha confermato l'obiettivo per il 2012 di vendite per almeno 30 a 380.